Cominciano i weekend della bella stagione ad Agropoli e si profila come ogni anno il fenomeno del camper selvaggio con il susseguirsi della protesta di residenti e cittadini. Ogni anno è così le ingombranti case mobili sono parcheggiate ovunque in città, spesso coprendo la visuale paesaggistica di Agropoli ed esibendo comportamenti non proprio consoni in luogo pubblico. È il caso dei camper parcheggiati presso Piazza Gallo all'inizio del lungomare San Marco e in via Michelangelo una traversa dello stesso lungomare. Questi restano fermi per ore e a volte intere giornate non permettendo ad altri di fruire degli stalli e spesso non pagano neppure la sosta. Le immagini si riferiscono a ieri domenica 24 maggio ma presto anche il parcheggio del cimitero e il parcheggio di Trentova saranno invasi. Le aree appositamente indicate dal comune di Agropoli ci sono ma non vengono proprio considerate dalla maggioranza dei camperisti. Intanto in città si scatenano le proteste per il modo comportamentale non gradito. È una vergogna assistere ogni anno ad un comportamento scorretto dei camperisti, ha aggiunto un cittadino. Non vogliamo denigrare nessuno ma è arrivato il momento di far rispettare le regole e la nostra città. Non siamo contro i camperisti, ha dichiarato un residente, ma se esistono delle regole vanno rispettate, altrimenti sanzioni a chi trasgredisce.